Salve, buonasera, siamo qui con la campionessa Jenny Barazza qui a Codognè dove ne stanno allestendo una festicciola per festeggiare questo grande risultato dopo tanti anni. Cosa ci racconti Jenny? Come è andata? Cosa provi dopo tanto tempo questa vittoria? Quali sono le emozioni che ti passano per la testa? Ma sicuramente è un'emozione fortissima, ho vinto, questa è la mia bambina, ho vinto tanti tornei, ho vinto altri due scudetti ma questo veramente per me vale tripolo perché qui in mezzo alla mia terra, in mezzo alla mia famiglia, con tutti questi tifosi la gran parte sono qui, i più affezionati che mi hanno seguito fin dall'inizio e quindi per me è stata veramente un'emozione grande. Quindi un risultato che premia una vita passata alla dedizione a questo sport. Quando è stato il momento, tu hai cominciato il tuo percorso qui a Codognè, quando è stato il momento nel quale ti sei accorta che questo sarebbe stato il tuo percorso di vita? Ma sinceramente forse quando ho fatto lo step di passare dal Codognè alla Serie A perché sì, qui per me era veramente un gioco come giocare in cortile, non mi rendevo conto della situazione tante persone credevano in me ma io non così tanto, ero molto alta, anche potenzialmente fisicamente valida però forse non ci credevo abbastanza. Poi quando sono passata a San Donà e subito sono entrata a titolare nella squadra ho capito che ce la potevo fare senza neanche tanta fatica quindi ho detto ci devo mettere la testa, devo mettere tutto il mio impegno perché questa credo sia la mia strada. E quindi una serie di successi che ti hanno portato a oggi a festeggiare questo incredibile momento. In questo momento della tua vita c'è qualcosa che ti manca? C'è qualcosa che vorresti ancora realizzare sportivamente? Qualcosa che ti rimane in sospeso oppure pensi di essere soddisfatta con quello che hai fatto? No, io credo che la palla a volo mi ha dato già tantissimo. Questo credo che fosse l'ultimo obiettivo che mi ero prefissata di vincere, insomma uno scudetto qui a casa mia penso che sia il sogno che vorrebbero realizzare tutti. Sicuramente ora che l'ho realizzato, insomma l'appetito viene mangiando. Magari ci proviamo anche il prossimo anno e proviamo a vincere anche qualcos'altro. Quindi confermi che giocherai ancora? Quanto presumi di giocare ancora? Di sicuro il prossimo anno, poi ci pensiamo. Di anno in anno. Vediamo cosa dice la signorina. Un sogno nel cassetto di Jenny, madre, moglie, persona non sportiva. C'è qualcosa che vorresti realizzare, che non hai magari fatto a tempo di realizzare per la tua decisione allo sport? Beh, io ho un grande rimpianto e spero di poter trasmettere alla mia bambina il desiderio, la curiosità e la voglia di studiare. Perché mi sono fermata al diploma, ma adesso mi rendo conto che aver studiato ancora un po' a fare l'università sarebbe stata un'opportunità in più per me e un valore aggiunto. Io ci provo. Ci provo e speriamo che Lulu voglia studiare tanto, tanto, tanto. Bene. E un messaggio che vorresti rilanciare ai giovani che si avvicinano a questo incredibile sport? Cosa diresti in questi anni a chi si avvicina adesso allo sport? Cosa diresti? Direi di viverla con la passione, con il divertimento e con la voglia sempre di raggiungere un obiettivo sempre più alto. Mai fermarsi, mai accontentarsi, cercare sempre di più rimanendo comunque umili e sapendo che ci vuole sempre rispetto per le altre persone e rispetto anche per gli allenatori, insomma, per chi lavora per seguirti e farti migliorare. Quanto conta per te ritornare qui a Codognè, nel tuo paese dove sei nata, dove hai vissuto, dove hai mostrato i tuoi primi passi? Rispetto a te che sei diventato una cittadina del mondo, diciamo, hai viaggiato dappertutto. Cosa rappresenta ritornare nel tuo paesino qui e vedere i tuoi amici? Come ti senti? È un ritorno che ti dà felicità? Ti trovi bene qui o preferisci quando sei fuori per il mondo? No, qui sto bene. La curiosità e la voglia che avevo di viaggiare, diciamo, è un po' scemata nel tempo. Più crescevo e più mi rendevo conto che, insomma, la mia casa e i miei affetti sono qui. Sono un po' qui e un po' in Sardegna adesso. Quindi credo che sia fondamentale rispettare, amare la propria terra, amare le proprie origini. E diciamo che quando mi hanno chiamato qui a Conegliano non ci ho pensato tantissimo. Ho detto subito sì perché per me era come tornare a casa. Però quando ho messo pieno in campo ho detto qui c'è qualcosa di speciale, c'è qualcosa di diverso. E sentivo tanta più responsabilità ma anche più un'emozione completamente diversa che ha raggiunto l'apice venerdì con questo scudetto. Quando Jenny appenderà le scarpette, hai qualche progetto? Grazie per le scarpette. Beh, intanto magari cercare di fare un fratellino e una sorellina per questa bambina, se lei desidera, ma non credo. E poi sì, adesso io e mio marito abbiamo aperto anzi un'azienda di liquore, di mirco artigianale di alta qualità e cerchiamo di proseguire amando la terra e i suoi frutti. Quindi non nello sport ma in qualcosa di diverso. E dedicarsi come vede a vedere a famiglia. Bene Jenny, ti ringrazio e complimenti per il tuo risultato. È stato un piacere intervistarti stasera e al prossimo successo. Grazie mille. Grazie.